Perché Pietrabbondante, perché i Sanniti, perché gli Italici? Perché dopo tante puntate di cronache dall'antichità, dal rinascimento, dal Medioevo, dal mito, dall'impero, mi sono reso conto che non avevo mai trattato, non avevamo mai trattato una fetta molto importante e affascinante di storia italiana, la storia dei popoli italici, la storia di tutti i popoli che cercarono di opporsi a Roma, poi si fusero con Roma ed è un grande romanzo d'avventura, a partire da una notizia che in qualche modo è poco conosciuta, cioè la notizia che per la prima volta il nome Italia diventa un organismo politico quando si forma una lega di genti che si ribellano a Roma. Ed è anche una storia che ovviamente non ha tutta questa risonanza perché l'hanno scritta i vincitori e questo posto pietrabbondante invece le sue pietre la raccontano in modo spettacolare.